Il duello Kubler-Bobet Lo svitero si è classificato secondo a due minuti e mezzo dal francese che ha così vinto il Tour per la seconda volta consecutiva festeggiatissimo nel Giro d'Onore al Parco dei Principi di Parigi Povet e Kubler si ritroveranno a Solingen per il campionato del mondo ma quel giorno ci sarà anche Autocopi